ok ragazzi eccoci bellissimo zebra se branch è un capsicum baccatum ora questa pianta avendo la messa tardino non ha sviluppato come di solito sviluppa un baccatum e anche questo zebrano cioè diventando gigantesco ma di frutti ne ha fatti tanti la caratteristica saliente è appunto questa striatura che l'ha reso famoso negli ultimi anni che è veramente meravigliosa ora vi faccio una ripresa dall'alto carlo martini semigstrani.it potete trovare semi e metterò anche nel link per l'acquisto nella descrizione del video eccoci qua ora stacco faccio questo piccolo raccoltino guardate che poesia ecco guardate qua fantastici li metto tutti in fila quelli maturi così alleggerisco la pianta dal peso che nei prossimi giorni ha messo finalmente pioggia vediamo se con una mano riesco a non rompere la pianta che sarebbe veramente un disagio guardate bello questo è anche il sapore dolce piccantezza sui 10 20 mila asciutto insomma una cosa relativamente leggera ed è veramente fantastico ecco qua amici zebras capsicum baccatum semi strani di carlo martini arrivederci